Signori attenzione perché siamo dinanzi a probabilmente una delle tracce più conscious che sta portando Rondo fino ad ora Ragazzi questa canzone è dedicata ad un artista che da anni ormai nella scena pop italiana chiamata Chiara Gagliazzo Ragazzi io non so che cosa aspettarmi perché veramente deve essere una traccia importante, importante Benvenuti signori in una nuova reaction Prima di cominciare con qualsiasi cosa ragazzi se vedete la luminosità del video è un pochino diversa rispetto al solito È perché sto facendo dei piccoli aggiornamenti alla postazione che era già completa Infatti ci ho fatto un video dedicato qualche mese fa se ve lo siete persi andatevelo a recuperare vi lascio i link nelle schede Ma che sto cercando comunque di abbellire un pochino e soprattutto ragazzi sto cercando di rendere sempre di qualità più alta queste reaction che state vedendo Quindi anche per questo non male non male ragazzi sto cercando di aggiornare la postazione il più possibile Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti Detto questo ragazzi Rondo è tornato con una nuova traccia intitolata Chiara Ragazzi come già vi ho detto nell'intro questa traccia dovrebbe essere dedicata a questa artista chiamata Chiara Gagliazzo A cui Rondo ha dedicato anche una cover di una sua canzone una delle sue prime canzoni tra l'altro intitolata due respiri E ragazzi davvero una bella canzone questa Chiara ha una bella voce devo dire per quel poco che ho sentito di lei Comunque è molto brava e ragazzi questa traccia è dedicata a lei tra l'altro la cover di questa canzone È appunto con due scheletri un po' il simbolo di Rondo lo scheletro e appunto sono abbracciati questi due scheletri Quindi non vorrei che effettivamente Rondo sia fidanzato con questa Chiara potrebbe essere effettivamente In ogni caso staremo a vedere ascoltando questa traccia ma prima di cominciare ragazzi come al solito mi raccomando Un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perderete tutti i nuovi video che usciranno in questi giorni Di music reaction o di qualsiasi altra categoria di video nel canale e detto questo ragazzi ci siamo dilungati Fin troppo direi che possiamo andare a sentire Chiara di Rondo tra l'altro Maya Blue non a caso Vai signori andiamo 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 Chiara Anche io un beat Forse dovrei vivere senza pensare pensare ai fatti miei e non c'è niente al mondo dove finiscono le parole inizia la musica Spero solo che questa volta Solo l'emozione è quella che dedico a te L'unica perché niente è come te Porca vacca Porca miseria Tutti mi giudicano che ne distaccano estrema ignoranza Freddano in giornali ma non hanno mai parlato con me in una stanza Non c'è ossessione Solo l'emozione Quella che dedico a te Perché niente è come te Bella ragazzi mamma mia Mamma mia mamma mia brividi Ok ragazzi non avevo capito che effettivamente questa traccia era proprio la cover che aveva cantato Rondo nei suoi concerti Però non l'aveva fatta sentire tutta questa è proprio la versione integrale tra l'altro io ho sentito tipo 10 secondi di quel video quindi non Cioè veramente perché ho sentito i primi 10 secondi ho detto ma questa canzone non è mai uscita l'ho chiuso subito perché ho detto potrebbe effettivamente uscire Però io pensavo che fosse effettivamente una cover semplicemente che cantasse all'interno dei suoi concerti Invece a quanto pare A quanto pare no A quanto pare è proprio uscita come una canzone intera E siamo a due respiri è la frase che in realtà dice per riprendere il titolo del suo primo pezzo di questa Chiara Ma in realtà anche qui la canzone non è uguale quella scritta da Chiara credo non vorrei dir cazzate Ok ragazzi ho ascoltato un attimo la traccia per essere un attimo più preciso e il ritornello della canzone di Rondo ha lo stesso testo della canzone di questa Chiara Per quanto riguarda invece il resto del testo quindi delle stroppe teoricamente essendo anche rappate sono invece proprio scritte da Rondo Però per quanto riguarda il ritornello in teoria il testo è stato preso dalla stessa canzone di Chiara Gagliazzi Quindi insomma il ritornello molto figo ma non è stato scritto da Rondo Però appunto è dedicata questa traccia a lei quindi ci stava ci stava effettivamente Anche perché è una delle tracce più belle sicuramente di questa di questa artista Detto questo ragazzi non male parlando del pezzo molto bello Non è nel mio mood nel senso che io non a me le canzoni d'amore generalmente non fanno impazzire Però a me questa è piaciuta molto perché ragazzi il Rondo cioè non so ha un qualcosa che me lo rende al momento superiore a molti altri artisti che abbiamo qui in Italia Perché è veramente fortissimo ragazzi cioè riesce a fare moltissimi generi riesce a fare drill ma riesce anche a portare delle tracce diverse Ci sta avvicinando molto ultimamente se avete notato a parte qualche traccia drill che è uscita ogni tanto ad un genere un po' più urban Stile fit con Art5 per farvi un attimo capire che cosa intendo E quindi non mi dispiace l'evoluzione che sta avendo Rondo mi piace molto quello che porta ragazzi Poi a me in generale le tracce drill mi piacciono molto quelle che fa Però sentirlo in altre staff quindi sentirlo anche con questo genere di pezzi qui Sentirlo sperimentare con questi generi qui nonostante il testo ripeto sia una canzone d'amore Non mi è dispiaciuto non è male ragazzi cioè molto bello Poi anche io questa traccia vi fa un attimo vedere quanto lui sia capace di fare anche cose al di fuori della drill Che non pensiate che anche io sia forte come produttore solo per quel genere lì e non anche per gli altri generi Perché non è così e nella dimostrazione ripeto questo pezzo perché la base è completamente diversa da un genere drill Questa ragazzi questa traccia qua secondo me non farà moltissimi ascolti purtroppo Ma è veramente tanta roba e mi fa piacere che Rondo abbia fatto una traccia del genere Consapevole del fatto che probabilmente non farà una quantità di ascolti grande come quella che fa portando pezzi rap Portando pezzi drill perché vuol dire che effettivamente a questo pezzo ci tiene veramente tanto E effettivamente il testo non solo quello scritto da Chiara ma anche quello scritto proprio da Rondo è veramente fatto bene Io vi invito ragazzi a recuperarvi questa traccia perché secondo me vale veramente tanto Non è male ragazzi sicuramente tra i più bei testi che Rondo ha scritto finora E magari vi leggo qualche frase giusto per farvi rendere conto un attimo Lui inizia cantando la prima strofa dicendo appunto Forse dovrei vivere senza pensare, pensare ai fatti miei E non c'è niente al mondo oltre a te che vorrei Vivere senza rimpianti, vivere senza lei Questa è una frase che appunto riprende l'altra canzone di Chiara insomma Una via d'uscita come fosse, come se fosse l'unica Poi inizia il pre-ritornello Non c'è ossessione, solo emozione, quella che dedico a te Non c'è tramonto, non c'è una stella che ci somiglia, che sia così unica E poi c'è il ritornello Perché niente è come te e me insieme Niente vale quanto te e me insieme Siamo due respiri che vibrano vicini Oltre il male e il bene Niente è come te e me insieme E poi c'è la seconda strofa appunto rappata Ovvero oggi niente va come al solito Mentre fuori piove a dirotto Magari mi perdo nel traffico O mi perderò dentro sto vuoto Vorrei cambiare tutto quanto se potessi tornare indietro Cancellare il mio passato Ma alla fine è da lì che vengo Amami o odiami Entrambi sono a mio favore Se mi odi sarò nella tua mente Se mi ami sarò nel tuo cuore Veramente un testo Pazzesco ragazzi Tanta roba E poi c'è il pre-ritornello Il ritornello che è uguale a quello che abbiamo già detto in precedenza Quindi non male Il testo è veramente molto bello E ragazzi ripeto Vi invito a recuperarvi questa traccia So che magari Chi ascolta Rondo La maggior parte di voi Se non quasi tutti Compreso io in realtà Non è abituato a sentirlo In queste staffe E sicuramente Alla maggior parte di voi Un pezzo del genere Non piacerà Però ragazzi Secondo me Veramente molto bello Un bel pezzo Perché poi io Sapete che giudico Un testo per il 70% Dal testo Se il testo è figo E mi prende Che poi sia Suoni bene Suoni male Certo è importantissimo Però se una canzone Ha un bel testo Anche se la sonorità non mi piace La reputo comunque una bella canzone Perché io ragazzi Il testo per me È la cosa più importante Che ci va all'interno di una canzone Non so Poi ognuno la vede come vuole ragazzi Ma secondo me Il testo in una canzone È fondamentale E infatti è proprio per questo Che artisti come Sfera e Basta Ma prendo un esempio di Sfera Poi che ce ne sono moltissimi altri Non mi fanno impazzire E anche del perché Il genere trap di per sé Non mi fa impazzire Però quando sei nel mood chill Di dire Mi ascolto una roba giusto per E non me ne frega niente del testo Sicuramente allora a quel punto Mi ascolto un mambo Mi ascolto degli artisti del genere Che comunque portano trap E i testi non sono chissà che cosa Ma te li ascolti Giusto perché La base è figa Spaccano E allora te li ascolti volentieri Invece se vuoi ascoltarti Un qualcosa di più conscious Con un testo fatto bene Lì ti ascolti artisti come Night Infatti Night è il mio artista preferito Perché io sono principalmente Di quel mood lì E questa traccia è ragazzi Da mood molto Night Secondo me E tra l'altro ragazzi Night prossima settimana Esce con il disco Io ragazzi non so cosa aspettarmi Vi dico solo che sicuramente Ci faremo la reaction Perché è il mio artista preferito Al momento E per mi sa Molto altro tempo Lo sarà Perché è veramente fortissimo E non so che cosa aspettarmi Ragazzi dovrebbe essere La chiusura Con questo album Della trilogia Mood Doom E abitata appunto L'ultimo disco Quindi non vedo l'ora Di ascoltarlo Ragazzi Chissà Che sorprese Ci riserverà questo disco Va bene ragazzi Comunque Rond tanta roba Bel pezzo Fatemi sapere nei commenti Che cosa ne pensate Di questo Di questo pezzo Perché secondo me È veramente molto bello Fatemi comunque sapere voi Che cosa ne pensate Perché ovviamente Ognuno può avere Un'opinione diversa E siamo qui Per scriverlo nei commenti Senza ovviamente Offendere nessuno ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Così non vi perderete Tutti i nuovi video Che c'erano in questi giorni Nel canale Di music reaction O di qualsiasi altra Categoria di video Nel canale E attenzione ragazzi Perché quando state vedendo Questo video Probabilmente è uscito Il disco di Shiva Quello nuovo Che ha fatto uscire Totalmente a caso Cioè nessuno se lo aspettava A tre giorni prima Che uscisse il disco Così dal nulla Se l'ho uscito Col dire Ah guardate ragazzi Che faccio uscire il disco Proprio così A caso Non me lo aspettavo mai Anche perché Abbiamo passato Milano Dimos Da sei mesi circa E quindi Non mi aspettavo mai Che uscisse già Un altro disco di Shiva Eppure Eppure è pronto Quindi ragazzi Quando starete vedendo Questo video Probabilmente Shiva è uscito Col disco Tranquilli che a giorni Arriva la reaction Completa a tutto il disco Quindi non mancate Nel canale Restate sintonizzati Ci vediamo nei prossimi giorni Con nuovi video Bella ragazzi Ciao